Nella città di Agropoli, i dirigenti scolastici sono al lavoro per garantire il rientro in sicurezza ai propri alunni fra i banchi di scuola. Presso l'istituto comprensivo Gino Rossivairo, il Comune ha provveduto a consegnare nei giorni scorsi i banchetti monoposto, che serviranno per mantenere il giusto distanziamento fra alunno e alunno. In base agli spazi che abbiamo, noi qui abbiamo circa 26 aule che possono ospitare 20 alunni, andando a organizzarli in base ai criteri Covid, la distanza di due metri tra insegnanti e alunni e la distanza di un metro tra alunni e alunni. Poi teniamo altre 6 aule che sono più grandi e possono ospitare 24 alunni in base a questi criteri. Noi tenevamo bisogno di 4 aule per ospitare 4 gruppi Covid o classi Covid, sempre rapportate allo spazio. Per cui io devo sfollare alcune classi seconde e alcune classi terze, per un totale di 18-19 ragazzi, tra tutte le seconde e tra tutte le terze. Qui possiamo fare dei gruppi rotanti per evitare che un ragazzino finisce in gruppo Covid e l'altro resta tranquillamente nella sua classe. Quindi a rotazione, diciamo, gruppi rotanti sulle seconde e fatto un calcolo annuale, se sono 8 o 10 giorni, diciamo che in maniera, in percentuale uguale, i ragazzi roteranno in questo gruppo rotante. Mentre sulle prime per questo anno e ancora non abbiamo proceduto alla formazione delle classi perché sto aspettando l'organico Covid che ho richiesto al Ministero. Mi hanno assicurato che arriverà e quest'anno c'è stato anche un incremento demografico. Praticamente ci sono stati 40 alunni in più rispetto allo scorso anno che in organico pre-Covid rientravano nelle 10 classi autorizzate, ma in organico post-Covid non ce la facciamo più in base agli spazi. Presenti all'interno della struttura scolastica anche i sanificatori portatili a disposizione dei collaboratori scolastici. Acquistate dall'Istituto anche le mascherine e tanto altro materiale che servirà per fornire le giuste misure anti-Covid. Modificate anche alcune aule che ospitavano laboratori e sala professori per evitare le classi pollaio, rimodulati anche gli ingressi ed il piano parcheggi. Noi abbiamo pianificato due o tre piani, piano A, piano B e piano C, in base a come ci dobbiamo organizzare, se resta il distanziamento oppure se devono mantenere la mascherina o non la devono mantenere la mascherina in classe. Questo lo sapremo gli ultimi giorni. Ma siccome qui ci sono 700 bambini che arrivano, 700 ragazzi, diciamo che possiamo sezionare questo istituto in vari plessi, in base agli ingressi e alle scale che abbiamo. E poi un'altra cosa, andremo a interdire le macchine nel cortile, perché se c'è bisogno di prendere la boccata d'aria, devono uscire anche per fare le attività in palestra, non possono andare più quattro classi come andavano prima. Quindi manderemo una classe per volta, utilizzeremo il campetto fuori, utilizzeremo gli altri spazi, per cui stiamo pensando di chiudere tutti i cancelli all'accesso delle macchine. Anche quella del dirigente, quindi utilizzeremo sicuramente il parcheggio a disposizione in via Romanelli, apriremo quel cancello per il personale che entrerà da dietro. E sempre per prevenzione Covid, i docenti, il personale entra da un ingresso, i ragazzi entrano da un altro ingresso. L'ambiente Covid per sospetto contagio l'abbiamo già individuato. Il comune lo sta pitturando, mettendo a posto, lo attrezzeremo. Come scuola abbiamo acquistato delle tute monouso anti-Covid, abbiamo comprato degli schermi, abbiamo comprato i dispositivi di sicurezza individuali. Inoltre abbiamo acquistato dei sanificatori che verranno distribuiti a ogni collaboratore scolastico, in modo che per fare la sanificazione non c'è bisogno di aspettare strumenti che devono arrivare o dalla palestra all'aula o dall'aula alla palestra, perché la scuola è grande. Per cui ogni bidello avrà una macchinetta elettronica per fare la sanificazione giornaliera. L'amministrazione comunale sta collaborando benissimo. La scuola ha acquistato con i fondi Covid che sono arrivati, sono arrivati i materiali che servivano per igienizzare. Abbiamo acquistato addirittura gli asciugamani elettrici che non si usano nelle scuole, almeno nelle nostre scuole non c'erano, non ci sono, e quindi saranno installati in questi giorni. L'obiettivo del dirigente scolastico Bruno Bonfrisco è quello di garantire sicurezza e comfort per tutti gli studenti. Io ai genitori chiedo la massima collaborazione, come l'hanno sempre dato, auguro loro un bellissimo anno scolastico, ce lo auguriamo tutti, tranquillo per tutti e speriamo che non succeda niente di tutto questo. Io ai genitori voglio dire questo, stamattina è stato emozionante ritrovarsi 110 persone tutti insieme a distanza con la mascherina. C'è bisogno della collaborazione di tutti. Io penso che bisogna ritornare a scuola e devono fare tanta formazione ai propri figli sul rispetto delle regole.